Ben trovati nell'angolo dello sport, vittoria fondamentale quella contro l'Avellino, meritata nonostante gli ospiti possano rammaricarsi per i due legni colpiti. Diciamo che il primo tempo dei biancazzurri è stato un pochino criticabile perché non hanno giocato all'altezza delle loro possibilità, però poi con un secondo tempo più efficace hanno riagguantato la partita, messo in cassaforte la vittoria e quindi si trovano adesso ad un solo punto dalla vetta. Diciamo che il gioco di Zeman si vede soltanto a tratti in questo momento, nonostante siano passati dieci giornate di lavoro, però con una buona preparazione atletica, anche se gli schemi di Zeman vengono applicati sul campo soltanto a sprazzi, la squadra riesce a prendere dei punti importanti e Zeman sta coprendo alcuni errori di mercato, questi errori ci hanno proposto una squadra nuova o quasi, ci hanno proposto molti giovani di cui ben nove in prestito e di questi nove parecchi sono dei titolari, voglio ricordare Valzania, Palazzi, Coulibaly, Carraro, Baez, Del Sole, Lattì, Cappelluzzo, Capone, tutti presti che finiranno il 30 di giugno del prossimo anno. In definitiva se questa squadra oggi come oggi dà questi risultati, a rigor di bazzica come si suol dire, quando assimilerà bene gli schemi di Zeman ma dovrebbe fare qualcosa di più e di meglio. Domani sera il Pescara incontrerà Lempoli, Lempoli che è il re e usce dalla sconfitta con il Venezia, 1-0, una sconfitta che ha consentito al Venezia di appaiare proprio Lempoli in testa alla classifica. Dobbiamo dire la verità che Vivarini, nonostante la sconfitta, sta facendo un buon lavoro a Lempoli, Vivarini lo conosciamo bene perché ha lavorato qui a Pescara per diverso tempo. Quali sono i giocatori più importanti dell'Empoli? Credo di poter dire in difesa Simic, a centrocampo Benassè soprattutto, un giocatore che Lempoli ha preso dall'Arsenal e in avanti Donnarumma e Caputo, però non credo che giochino tutte e due, dovrebbe giocare in avanti, dovrebbe giocare soltanto Caputo. L'arbitro della partita sarà la penna di Roma, quindi ci sono tutti i presupposti perché domani sera il Pescara faccia una bella partita ad Empoli senza preoccuparsi troppo del risultato perché credo che a questo punto di fronte ad un Empoli se basta non perdere anche con un buon pareggio il Pescara potrebbe tornare soddisfatto a casa propria. Bene posso chiudere qui, un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso come sempre, un ringraziamento al regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori